Nel mondo ci sono oltre 35 milioni di persone affette da virus dell'AIDS. 25 milioni di loro vivono nell'Africa subsahariana. 17 milioni sono già morte. In percentuale, 17 milioni di africani equivalgono a 7 milioni di americani. Cosa importante, si tratta di 17 milioni di africani. Non esiste cura per l'AIDS, ma esistono medicine che rallentano il progredire del male. Queste terapie antiretrovirali sono tuttora in fase di sperimentazione, ma hanno già avuto notevoli effetti. Negli Stati Uniti i malati di AIDS che assumono regolarmente un cocktail di questi farmaci vedono aumentare le loro aspettative di vita da 10 a 20 anni. Per alcuni questi farmaci rendono la malattia quasi inavvertita. Si tratta di medicine costose. Quando vennero introdotte per la prima volta negli Stati Uniti, costavano tra i 10 mila e i 15 mila dollari l'anno a persona. Oggi alcune raggiungono i 25 mila dollari. A simili prezzi, nessuna nazione africana può permettersi questi farmaci. 15 mila dollari equivalgono a 30 volte il prodotto nazionale lordo pro capite dello Zimbabwe. Dunque, tali medicine sono irraggiungibili. I prezzi non sono così alti a causa del costo degli ingredienti, ma perché le medicine sono coperte dai brevetti. Le industrie farmaceutiche che possiedono questi cocktail salvavita godono di un monopolio di almeno 20 anni per le loro invenzioni e usano questo potere per ricavare il massimo guadagno possibile dal mercato. Tale potere, a sua volta, viene utilizzato per tenere alti i prezzi. Molta gente considera con scetticismo i brevetti, soprattutto quelli sulla medicina. Io no. Anzi, fra tutti i settori della ricerca che si basano sui brevetti, penso che la ricerca sui farmaci sia il caso più evidente della loro necessità. E si garantiscono a un'azienda farmaceutica che, se inventerà una nuova sostanza per la cura di una malattia, potrà recuperare l'investimento e anche di più. A livello sociale, si tratta di un incentivo estremamente prezioso. Io sono l'ultimo a sostenere che la legge debba abolirlo, almeno senza ulteriori modifiche. Ma una cosa è sostenere la necessità dei brevetti, anche quelli sulle medicine. E un'altra è stabilire come gestire una crisi nel modo migliore. E quando i leader africani iniziarono a rendersi conto della devastazione prodotta dall'AIDS, cercarono strade alternative per importare i farmaci contro l'HIV a costi decisamente inferiori al prezzo corrente del mercato. Nel 1997 il Sudafrica fece un tentativo. Approvò una legge che consentiva l'importazione di medicine brevettate che fossero state prodotte o vendute in un'altra nazione con il consenso del titolare del brevetto. Per esempio, se le medicine erano vendute in India, potevano essere importate in Africa da quel paese. Questo procedimento viene definito importazione parallela. È generalmente consentito dalle norme dei trattati internazionali sul commercio ed è in particolare permesso all'interno dell'Unione Europea. Tuttavia il governo degli Stati Uniti si oppose al decreto, anzi fece di più. Secondo l'Associazione Internazionale sulla Proprietà Intellettuale, il governo USA esercita pressioni sul Sudafrica affinché non permettesse licenze regolate dalla legge o importazioni parallele. Tramite l'ufficio del rappresentante commerciale, il governo chiese al Sudafrica di modificare la legge e per rendere più pressante quella richiesta, nel 1998 l'ufficio inserì il Sudafrica nell'elenco dei paesi passibili di sanzioni commerciali. Nello stesso anno oltre 40 società farmaceutiche iniziarono azioni legali nei tribunali sudafricani per contrastare la decisione governativa. Agli Stati Uniti si aggiunsero poi altri governi dell'Unione Europea. La loro opinione, e quella delle società farmaceutiche, era che il Sudafrica stesse violando gli obblighi sottoscritti in base alle norme internazionali, operando discriminazioni contro un particolare tipo di brevetti, quelli farmaceutici. Tali governi, con in testa gli Stati Uniti, chiedevano che il Sudafrica rispettasse quei brevetti, come faceva con tutti gli altri, indipendentemente dalle conseguenze sulla cura dell'AIDS nel paese. L'intervento degli Stati Uniti va visto nel giusto contesto. Senza dubbio non sono i brevetti la ragione più importante per cui gli africani non hanno accesso alle medicine. Contano di più la povertà e la totale assenza di un'efficace infrastruttura per l'assistenza sanitaria. Ma che i brevetti rappresentino o meno un motivo principale, il prezzo dei farmaci ha effetto sulla domanda e i brevetti sul prezzo. E così, la conseguenza dell'intervento del nostro governo, massiccio o marginale che fosse, fu di impedire il flusso di farmaci verso l'Africa. Bloccando il flusso dei farmaci contro l'HIV verso l'Africa, il governo degli Stati Uniti non li conservava per i cittadini statunitensi. Non stiamo parlando di grano. Se lo mangiano loro, non ce n'è per noi. Al contrario, quello che la manovra statunitense aveva bloccato era in effetti un flusso di conoscenze, informazioni per come utilizzare sostanze chimiche repelibili in Africa e trasformarle in medicine che avrebbero salvato da 15 a 30 milioni di vite. L'intervento degli Stati Uniti non mirava neppure a tutelare i profitti delle società farmaceutiche statunitensi, almeno in modo sostanziale. Infatti, questi paesi non avevano la possibilità di acquistare le medicine al prezzo imposto dalle aziende. Come ho già detto, gli africani sono troppo poveri per potersi permettere tali sostanze al prezzo a cui vengono offerte. Bloccare l'importazione parallela delle medicine non avrebbe aumentato in modo sostanziale le vendite delle aziende USA. Piuttosto, la motivazione principale della restrizione di questo flusso di informazioni necessario per salvare la vita a milioni di persone era il concetto che la proprietà è sacra. Dal momento che sarebbe stata violata la proprietà intellettuale, questi farmaci non dovevano circolare in Africa. Fu un principio riguardante l'importanza della proprietà intellettuale a guidare il governo nell'intervento contro la risposta sudafricana all'AIDS. Facciamo una breve riflessione. Ci sarà un momento in cui, fra trent'anni, i nostri figli ci guarderanno e ci chiederanno come abbiamo potuto permettere che tutto questo accadesse. Perché mai abbiamo consentito che si perseguisse una politica il cui costo diretto sarebbe stato a frettare la morte di 15-30 milioni di africani e il cui unico beneficio era quello di riaffermare la santità di un'idea? Quale giustificazione ci può essere per una decisione che provoca tanti morti? Che nome potremmo dare a una follia che permette che tante persone muoiano per un'idea astratta? Alcuni accusano le società farmaceutiche. Io non lo faccio. Si tratta di corporation. Per legge i dirigenti sono obbligati a far guadagnare la loro azienda. Non spingono una determinata politica sui brevetti per seguire un ideale, ma perché essa consente loro di guadagnare molto denaro. E la causa è una certa corruzione all'interno del nostro sistema, di cui sicuramente le case farmaceutiche non sono responsabili. La corruzione dipende dalla mancanza di integrità degli uomini politici. Infatti le società farmaceutiche preferirebbero, così dicono almeno, e io ci credo, vendere le medicine a prezzi più bassi nei paesi africani e altrove. Esse devono risolvere il problema di assicurarsi che i farmaci non rientrino negli Stati Uniti. Ma si tratta semplicemente di questioni tecniche che si possono affrontare. C'è tuttavia un altro problema che non si può risolvere. È il timore che un importante uomo politico possa convocare i presidenti delle aziende farmaceutiche davanti alla Camera o al Senato e chiedere loro come mai vendete queste medicine per l'HIV soltanto a un dollaro a pillola in Africa, mentre a un americano costano 1500 dollari. Una risposta semplice a una domanda del genere avrebbe come conseguenza la regolamentazione dei prezzi in America. Le aziende farmaceutiche non entrano in questa spirale evitando di fare il primo passo. Sostengono l'idea che la proprietà intellettuale è sacra. Adottano una strategia razionale in un contesto irrazionale con la conseguenza non voluta che milioni di persone forse moriranno. E quella strategia razionale viene inquadrata nei termini di un ideale, la sacralità del concetto chiamato proprietà intellettuale. Così, quando dovremo fare i conti con il buon senso dei nostri figli, che cosa direbbero loro? Quando il buon senso di una generazione si ribellerà contro ciò che abbiamo fatto, come ci giustificheremo? Quali argomenti troveremo? Una politica sensata potrebbe appoggiare e sostenere il sistema dei brevetti senza comportarsi esattamente allo stesso modo con chiunque in qualsiasi paese. Come una politica sensata potrebbe appoggiare e sostenere il sistema del copyright senza regolamentare la circolazione della cultura in modo definitivo e per sempre, così una politica sensata sui brevetti potrebbe appoggiare e sostenere il relativo sistema senza bloccare la diffusione di farmaci in un paese che non è abbastanza ricco da potersi permettere i prezzi imposti dal mercato. Un'azione politica sensata in altri termini dovrebbe essere anche equilibrata. E in gran parte della nostra storia sia la politica sul copyright sia quella sui brevetti sono state equilibrate. Ma la nostra cultura ha perso questo equilibrio. Abbiamo smarrito il senso critico che ci aiuta a vedere la differenza tra verità ed estremismo. Oggi nella nostra cultura regna una concezione fondamentalista della proprietà che non ha legami con la tradizione qualcosa di anomalo che avrà conseguenze più gravi rispetto alla circolazione delle idee e della cultura di qualsiasi altra decisione che prenderà la nostra democrazia. È un'idea semplice quella che ci acceca e nel buio avvengono cose che la maggior parte di noi rifiuterebbe se riuscisse a vederle. Accettiamo in maniera così acritica il concetto di proprietà delle idee che non ci rendiamo neppure conto di quanto sia mostruoso negare le idee a un popolo che senza di esse sta morendo. Accogliamo in maniera così acritica il concetto di proprietà della cultura che non facciamo obiezioni quando il controllo di tale proprietà elimina la nostra capacità come popolo di sviluppare democraticamente la cultura. La cecità sostituisce il senso comune e la sfida per chiunque voglia reclamare il diritto di coltivare la cultura è trovare il modo di aprire gli occhi a questo senso comune. Per ora il senso comune dorme non si ribella non riesce ancora a vedere a che cosa ci si dovrebbe ribellare. L'estremismo che oggi domina questo dibattito si adegua a idee che sembrano naturali e questo adeguamento viene rafforzato dalle RCA dei nostri giorni le quali si lanciano in una frenetica guerra per combattere la pirateria e devastare la cultura della creatività difendono il concetto di proprietà creativa mentre trasformano i veri creatori in mezzasi dell'età moderna. Si ritengono insultate dall'idea che i diritti debbono essere equilibrati anche se ognuno dei protagonisti di questa guerra sui contenuti ha tratto benefici da un ideale più equilibrato. L'ipocrisia puzza eppure in una città come Washington l'ipocrisia non viene neppure notata. Lobby potenti questioni complesse e un livello d'attenzione simile a quello di MTV producono una tempesta perfetta per la cultura libera. Nell'agosto del 2003 negli Stati Uniti scoppiò un putiferio a causa della decisione della World Intellectual Property Organization VIPO di cancellare un incontro. Su richiesta di un ampio gruppo di soggetti interessati la VIPO aveva indetto una riunione per discutere progetti aperti e collaborativi per la creazione di beni pubblici. Si trattava di progetti che erano riusciti a realizzare beni pubblici senza affidarsi esclusivamente all'uso proprietario della proprietà intellettuale. Gli esempi comprendevano Internet e World Wide Web entrambi sviluppati sulla base di protocolli di pubblico dominio. Emergeva anche la tendenza a sostenere riviste accademiche aperte tra cui il progetto della Public Library of Science che illustro nella postfazione. C'era anche un progetto per lo sviluppo di polimorfismi di singoli nucleotidi ritenuto molto significativo per la ricerca biomedica. Scopo della riunione era considerare quest'ampia gamma di progetti da una prospettiva comune. Nessuno di loro poggiava sull'estremismo della proprietà intellettuale. Al contrario, in ognuno di essi la proprietà intellettuale era controbilanciata da accordi atti a mantenere aperto l'accesso o a imporre limitazioni all'utilizzo delle rivendicazioni proprietarie. Dal punto di vista di questo libro dunque, la conferenza era perfetta. I progetti che intendeva discutere comprendevano lavori commerciali e non commerciali. Esse riguardavano principalmente la scienza, ma da vari punti di vista, e il WAPO era il contesto ideale per questa discussione, poiché era l'ente internazionale più in vista fra quelli che si occupano di questioni inerenti la proprietà intellettuale. Anzi, una volta venne rimproverato pubblicamente per non aver riconosciuto questa prerogativa dell'organizzazione. Nel febbraio del 2003 presentai una relazione a una conferenza preparatoria per il Summit Mondiale della Società dell'Informazione. Durante la conferenza stampa precedente all'intervento mi venne chiesto che cosa avrei detto. Risposi che avrei anche parlato brevemente dell'importanza dell'equilibrio nella proprietà intellettuale per lo sviluppo della società dell'informazione. La modellatrice dell'evento intervenne prontamente per informare me e i giornalisti presenti che non si sarebbe discusso al Summit su nessuna questione relativa alla proprietà intellettuale. poiché questi problemi erano dominio esclusivo della World Intellectual Property Organization. Nell'intervento che avevo preparato in realtà il tema della proprietà intellettuale era abbastanza marginale ma dopo questa incredibile dichiarazione lo fece diventare l'unico argomento della relazione. Non era possibile discutere sulla società dell'informazione senza parlare anche della percentuale di informazione e cultura che sarebbe stata libera. il mio intervento non risultò molto gradito alla moderatrice non troppo moderata la quale aveva ragione quando sosteneva che la portata delle protezioni sulla proprietà intellettuale era normalmente una materia che riguardava il WIPO ma dal mio punto di vista non si sarebbe potuto discutere su quanto fosse necessaria la proprietà intellettuale dato che era andata perduta l'idea stessa di equilibrio nella proprietà intellettuale. non so se il summit potesse discutere o meno dell'equilibrio nella proprietà intellettuale davo però per scontato che il WIPO avrebbe potuto e dovuto farlo e quindi la riunione sui progetti aperti e collaborativi per la creazione di beni pubblici sembrava perfettamente appropriata all'agenda dell'organizzazione ma in quell'elenco di temi in discussione c'era un progetto estremamente controverso almeno tra i lobbisti quello riguardante il software open source o libero la Microsoft in particolare è molto cauta nel discutere sull'argomento dal suo punto di vista una conferenza per parlare di software libero e open source potrebbe apparire simile a un incontro per discutere sul sistema operativo della Apple il software open source e quello libero sono infatti in concorrenza con quello della Microsoft e in ambito internazionale numerosi governi hanno iniziato a esplorare la possibilità di servirsi per usi interni del software libero anziché di quello proprietario non intendo affrontare in questa sede un simile dibattito è solo importante chiarire che la distinzione non è tra software commerciale e non commerciale ci sono molte aziende importanti che sostanzialmente si appoggiano al software open source e libero la più rilevante delle quali è l'IBM essa mostra un crescente interesse per il sistema operativo Linux la componente più famosa del software libero e l'IBM è chiaramente una società commerciale quindi sostenere il software open source e libero non significa opporsi alle imprese commerciali vuol dire piuttosto sostenere una modalità di sviluppo del software diversa da quella della Microsoft e soprattutto sostenere questo tipo di software non significa opporsi il copyright il software open source e libero non è di pubblico dominio piuttosto come avviene per quello della Microsoft i titolari del copyright per il software libero e open source insistono perché i termini della licenza del loro software siano rispettati da chi lo adotta indubbiamente sono termini diversi da quelli della licenza per il software proprietario il software libero rilasciato con la general public license per esempio impone che il codice sorgente sia messo a disposizione di chiunque intenda modificare e ridistribuire i programmi ma questo requisito è efficace soltanto se esiste un copyright a governare il software se non fosse così il software libero non potrebbe imporre questi stessi requisiti a chi lo adotta esso dipende perciò dalla legge sul copyright proprio come quello della Microsoft quindi era comprensibile che la Microsoft essendo una società che sviluppa software proprietario si sarebbe opposta alla riunione della World Intellectual Property Organization e che si sarebbe servita dai suoi lobbisti per far sì che vi si opponesse anche il governo degli Stati Uniti e infatti questo è esattamente ciò che si dice sia accaduto secondo Jonathan Crime del Washington Post i lobbisti della Microsoft riuscirono a convincere il governo statunitense a porre il veto alla conferenza poiché venne a mancare il sostegno degli Stati Uniti l'incontro venne cancellato non viagino alla Microsoft perché fa il possibile per tutelare i propri interessi nel rispetto della legge e fare pressione sui governi non trasgredisce alcuna legge non ci fu nulla di strano in questa azione di lobby e nulla di straordinario nel fatto che il tentativo del più potente produttore di software degli Stati Uniti abbia avuto successo sorprese tuttavia il motivo addotto dal governo statunitense per opporsi alla riunione come ha scritto Crime Lois Poland responsabile delle relazioni internazionali dell'ufficio USA dei brevetti e dei marchi registrati spiegò che il software open source è contrario alla missione del IPO che è quella di promuovere i diritti sulla proprietà intellettuale riportiamo una sua frase organizzare un incontro che abbia l'obiettivo di disconoscere o abbandonare tali diritti ti sembra contrario agli scopi della World Intellectual Property Organization queste dichiarazioni sono incredibili sotto diversi aspetti primo sono chiaramente sbagliate come ho detto la maggior parte del software open source e libero si basa in modo sostanziale sul diritto di proprietà intellettuale chiamato copyright senza copyright i limiti imposti da quelle licenze non funzionerebbero perciò dire che questo software si oppone alla missione di promuovere diritti sulla proprietà intellettuale rivela una straordinaria mancanza di comprensione il tipo di errore che si può perdonare a uno studente del primo anno di giurisprudenza ma che è imbarazzante se viene commesso da un alto funzionario governativo che si occupa di questioni relative alla proprietà intellettuale secondo chi ha mai detto che il solo obiettivo della WIPO sia quello di promuovere al massimo livello la proprietà intellettuale come ho detto e sono stato per questo rimproverato dalla stessa conferenza preparatoria del WSIS la WIPO deve mirare non soltanto a tutelare nel modo migliore la proprietà intellettuale ma anche a trovare l'equilibrio più adatto a questo scopo come sanno bene gli economisti e gli avvocati il punto più difficile delle norme sulla proprietà intellettuale è raggiungere tale equilibrio ma dovrebbero esserci dei limiti almeno così pensavo verrebbe da chiedere al signor Boland i farmaci generici che derivano da preparati il cui brevetto è scaduto sono contrari alla missione del WIPO il pubblico dominio indebolisce forse la proprietà intellettuale sarebbe stato forse meglio se i protocolli di internet fossero stati brevettati terzo anche se si pensa che lo scopo del WIPO sia quello di sostenere al massimo grado i diritti della proprietà intellettuale si deve tenere presente che essi sono tradizionalmente posseduti da singole persone e da aziende aspetta a loro decidere che cosa fare di quei diritti perché sono loro a possederli se li vogliono abbandonare oppure disconoscere questo è del tutto coerente con la nostra tradizione quando Bill Gates dona oltre 20 miliardi di dollari in beneficenza non è in disaccordo con gli obiettivi del sistema proprietario al contrario è proprio questo il senso di tale sistema offrire ai singoli il diritto di decidere che cosa fare della loro proprietà quando la signora Boland sostiene che c'è qualcosa che non va in una riunione che abbia l'obiettivo di disconoscere o abbandonare tali diritti dice che la World Intellectual Propriety Organization ha interesse a interferire con le scelte dei singoli detentori dei diritti di proprietà intellettuale che in un certo senso lo scopo della WIPO dovrebbe essere quello di impedire ai singoli di abbandonare o di sconoscere un diritto di proprietà intellettuale e che l'interesse dell'organizzazione non sia soltanto quello di sostenere in massimo grado i diritti di proprietà intellettuale ma anche di assicurarsi che essi vengano esercitati nella maniera più estrema e restrittiva possibile è esistito in passato un sistema proprietario di questo tipo ben noto alla tradizione anglo-americana si chiamava feudalesimo sotto il feudalesimo non soltanto la proprietà era nelle mani di un numero relativamente ristretto di individui e di entità e non soltanto i diritti connessi a quella proprietà erano potenti ed estesi ma il sistema feudale aveva un forte interesse ad assicurarsi che i titolari della proprietà all'interno di quel sistema non lo indebolissero affrancando le persone o le proprietà sotto il loro controllo e rendendole disponibili al mercato libero il feudalesimo si fondava su livelli di controllo e di concentrazione spinti al massimo livello e si opponeva a ogni libertà che potesse interferire con tale controllo questa è precisamente la scelta che stiamo facendo oggi a proposito della proprietà intellettuale la nostra sarà una società dell'informazione questo è sicuro ma ora dobbiamo scegliere se tale società debba essere libera o feudale la tendenza è verso quest'ultima quando scoppiò questa discussione né scrissi sul mio blog nello spazio riservato ai commenti si sviluppò un acceso dibattito la signora Boland aveva un certo numero di sostenitori che tentarono di dimostrare la sensatezza delle sue dichiarazioni ci fu però un commento per me particolarmente deprimente un utente anonimo scrisse George hai frainteso Lessig sta parlando del mondo come dovrebbe essere l'obiettivo del IPO e di ogni governo deve essere quello di favorire il giusto equilibrio dei diritti di proprietà intellettuale non soltanto di promuovere tali diritti non com'è se stessimo parlando del mondo così com'è ovviamente Boland non avrebbe detto nulla di sbagliato ma nel mondo che piacerebbe a Lessig allora sì che sarebbe sbagliato bisogna sempre stare attenti a distinguere tra il mondo di Lessig e il nostro a prima vista non ne compresi l'ironia lo lessi velocemente e pensai che la tesi dell'autore fosse che il governo dovesse cercare un equilibrio naturalmente la mia critica alla signora Boland non riguardava la sua posizione a proposito dell'equilibrio dicevo che i suoi commenti tradivano un errore da studente al primo anno di giurisprudenza non mi faccio illusione dell'estremismo del nostro governo repubblicano democratico che sia la mia sola illusione riguarda il problema se il governo debba dire o meno la verità ovviamente però l'autore del commento non era d'accordo al contrario trovava ridicola l'idea stessa che nel mondo reale l'obiettivo di un governo debba essere quello di favorire il giusto equilibrio della proprietà intellettuale evidentemente gli sembrava un'idea sciocca che tradiva e così riteneva lo scrivente la stupidità della mia utopia tipica di un accademico avrebbe potuto aggiungere capisco la critica alle utopie degli accademici anch'io le ritengo sciocche e sono il primo a farmi gioco degli ideali assurdamente irreali sostenuti dagli accademici nel corso della storia e non solo quella del nostro paese ma quando appare stupida l'idea che il ruolo del governo debba essere quello di cercare l'equilibrio allora consideratemi pure sciocco perché questo significa che ci troviamo di fronte a un problema serio se tutti trovassero ovvio il fatto che il governo non debba cercare l'equilibrio il fatto che esso sia semplicemente uno strumento nelle mani dei lobbisti più potenti e se tutti pensassero che l'idea che il governo lavori all'altezza di standard più alti sia assurda e che la pretesa che il governo dica la verità sia infantile allora che cosa siamo diventati noi la più potente democrazia del mondo forse è una follia aspettarsi che un alto funzionario governativo dica la verità è una follia aspettarsi che la politica del governo non sia al servizio degli interessi dei potenti o sostenere che sia nostro dovere conservare una tradizione che per lungo tempo è appartenuta alla nostra storia la cultura libera se tutto questo è follia allora speriamo che la follia aumenti presto ci sono momenti di speranza in questa lotta e momenti sorprendenti quando la federal communication commission stava considerando l'idea di allentare le regole sulla proprietà delle testate il che avrebbe incrementato ulteriormente la concentrazione nella proprietà dei media si formò un'eccezionale coalizione bipartisan per combattere questo cambiamento forse per la prima volta nella storia interessi completamente diversi si organizzarono per opporsi a questo mutamento nella politica della FCC la quale ricevette una incredibile quantità di lettere 700.000 che richiedevano ulteriori dibattiti a un risultato diverso quest'attivismo non fermò la FCC ma poco tempo dopo una vasta coalizione al senato votò per ribaltare la decisione lo stile seduta che portò al voto evidenziò proprio quanto fosse divenuto potente quel movimento non ci fu alcun appoggio sostanziale alla decisione della FCC e si manifestò una vasta e diffusa opposizione a una maggior concentrazione dei media ma anche questo movimento trascura un pezzo importante del puzzle tale concentrazione non è in se stessa negativa la libertà non è minacciata solo perché qualcuno diventa molto ricco o perché esiste soltanto un pugno di grandi protagonisti la scarsa qualità dei prodotti di McDonald non significa che non sia possibile acquistare un buon hamburger altrove il pericolo non deriva dalla concentrazione dei media quanto piuttosto dal feudalesimo che questa concentrazione associata alla trasformazione del copyright produce il problema non è che poche aziende potenti controllino una fetta in continua espansione dei media è che questa concentrazione possa provocare una quantità ugualmente sproporzionata di diritti i diritti di proprietà in una forma storicamente estrema che la rendono nociva è perciò significativo il fatto che tante persone manifestino in favore della competizione e una maggiore diversità tuttavia se queste manifestazioni sono solo contro le dimensioni della concentrazione non risultano così sorprendenti noi americani vantiamo una lunga storia nell'opporci al grande che sia saggio o no la nostra motivazione di combattere ancora una volta contro il grande non rappresenta una novità sarebbe qualcosa di nuovo e di molto importante se un ugual numero di persone manifestasse per opporsi al crescente estremismo insito nel concetto di proprietà intellettuale non perché l'equilibrio sia estraneo alla nostra tradizione anzi come ho già detto l'equilibrio è la nostra tradizione ma perché il pensiero critico riguardante il raggio di azione di tutto ciò che chiamiamo proprietà non verrebbe più esercitato all'interno di questa tradizione se fossimo Achille questo sarebbe il nostro tallone sarebbe il teatro della nostra tragedia mentre scrivo queste parole conclusive i telegiornali non parlano altro che delle querele sporte dalla RIA contro quasi 300 persone Eminem è stato appena denunciato per aver citato un brano di musica di un altro autore la storia di Bob Dylan che ha rubato a un autore giapponese ha fatto il giro del mondo qualcuno a Hollywood che insiste a voler rimanere anonimo riferisce di un'incredibile conversazione con persone che lavorano negli studi cinematografici essi hanno del vecchio materiale veramente eccezionale che vorrebbero usare ma non possono farlo perché non riescono a sistemare la faccenda dei diritti hanno tanti ragazzi capaci di fare cose incredibili con quei contenuti ma ci vorrebbero prima squadre di avvocati per risolvere la questione delle autorizzazioni i membri del congresso stanno discutendo se ricorrere ai virus informatici per bloccare i computer che si ritiene violino la legge le università minacciano di espellere i ragazzi che usano il computer per condividere contenuti eppure dall'altro lato dell'Atlantico la BBC ha appena annunciato la realizzazione di un archivio creativo le quali cittadini britannici potranno scaricare materiali della BBC e poi manipolarli a piacere e in Brasile il ministro della cultura Gilberto Gil e gli stesso un eroe popolare della musica brasiliana si è unito alle creative commons per diffondere contenuti e licenze libere in quel paese dell'America Latina ho raccontato una storia tinte fosche la verità è più sfumata la tecnologia ci ha portato una nuova libertà lentamente qualcuno ha iniziato a comprendere che questa libertà non deve significare anarchia possiamo portare la cultura libera del ventunecimo secolo senza danni per gli artisti e senza senza danni per gli artisti e senza distruggere le potenzialità della tecnologia digitale bisognerà rifletterci sopra e cosa più importante ci vorrà un po' di buona volontà per trasformare la RSA dei nostri giorni nei coniugi Cowsby il buon senso deve ribellarsi deve agire per liberare la cultura presto se si vuole che il suo potenziale venga realizzato postfazione almeno qualche lettore fra quelli che sono arrivati fino a questo punto sarà d'accordo con me che occorre fare qualcosa per cambiare la strada che abbiamo imboccato la visione equilibrata di questo libro offre una mappa di ciò che si può fare ho diviso questa mappa in due parti ciò che può fare ciascuno di noi è ciò che richiede l'aiuto dei legislatori se c'è una lezione che possiamo trarre dai tentativi di modificare il senso comune è che bisogna modificare il modo in cui molte persone arrivano a riflettere sulla questione ciò significa che il movimento deve iniziare dalle strade e deve raccogliere un numero significativo di genitori insegnanti bibliotecari autori musicisti cineasti scienziati tutti pronti a raccontare questa storia con parole proprie a spiegare ai vicini perché questa battaglia è così importante una volta che il movimento abbia prodotto qualche effetto nelle strade avrà qualche speranza di ottenere la stessa cosa a Washington viviamo ancora in una democrazia ciò che pensa la gente è importante non è così importante come dovrebbe almeno quando dall'altra parte c'è una RCA ma conta ancora qualcosa perciò più avanti abbozzerò i cambiamenti che il congresso potrebbe mettere in atto per assicurare l'esistenza di una cultura libera noi ora il senso comune è dalla parte dei guerrieri del copyright perché finora il dibattito è stato visto come una lotta tra due estremi come un grande out out la proprietà o l'anarchia il controllo totale o nessun compenso per l'artista se l'alternativa fosse veramente questa allora la vittoria aspetterebbe ai guerrieri l'errore in questo caso è escludere la via di mezzo esistono posizioni estreme in questo dibattito ma c'è dell'altro ci sono coloro che credono in un'estensione massima del copyright tutti i diritti riservati e coloro che lo rifiutano completamente nessun diritto riservato i primi ritengono che si dovrebbe sempre chiedere il permesso prima di usare un'opera protetta da copyright i secondi credono invece che si dovrebbe fare quel che si vuole dei contenuti con o senza l'autorizzazione quando internet fece la sua comparsa in pratica l'architettura iniziale andava nella direzione del nessun diritto riservato era possibile copiare i contenuti in modo perfetto ed economico non era facile verificare i diritti così indipendentemente dalla volontà precisa di qualcuno di fatto il sistema del copyright nella struttura originale di internet era nessun diritto riservato si appropriava dei contenuti a prescindere dai diritti in pratica i diritti non venivano tutelati questa caratteristica iniziale provocò una reazione contraria ma non proprio uniforme da parte dei titolari del copyright tale reazione è stata l'argomento di questo libro tramite la legge le azioni legali e i cambiamenti nella progettazione della rete i titolari del copyright sono riusciti a modificare la caratteristica essenziale dell'ambiente originario di internet se l'architettura iniziale aveva praticamente come impostazione predefinita nessun diritto riservato quella del futuro sarà tutti i diritti riservati l'architettura e le leggi relative alla struttura di internet produrranno in modo crescente un ambiente dove qualsiasi utilizzo dei contenuti imporrà la richiesta di un permesso il mondo del taglia in colla che caratterizza l'internet di oggi diventerà quello del chiedi l'autorizzazione per il taglia in colla che è l'incubo di chi crea bisogna trovare una via di mezzo né tutti i diritti riservati né nessun diritto riservato ma alcuni diritti riservati un modo per rispettare il copyright consentendo però agli autori di rendere liberi i contenuti quando lo ritengono opportuno in altre parole dobbiamo trovare un modo per ripristinare quelle libertà che in passato davamo per scontate esempi se facciamo un passo indietro rispetto alla battaglia che ho illustrato riconosceremo questo problema in altri contesti prendiamo la privacy prima di internet la maggior parte di noi non doveva preoccuparsi che informazioni sulla sua vita privata venissero diffuse in tutto il mondo se entravamo in una libreria e sfoglievamo un'opera di Marx non dovevamo preoccuparci di spiegare le nostre preferenze ai vicini o al capufficio la riservatezza sui nostri gusti in fatto di libri era assicurata che cosa la garantiva se riflettiamo sulle modalità descritte nel capitolo 10 la privacy veniva assicurata da un'architettura poco efficiente per quanto riguardava la raccolta dei dati e dal conseguente vincolo imposto dal mercato il costo a chiunque volesse acquistarli se fossimo sospettati di essere una spia della Corea del Nord mentre lavoriamo per la CIA mentre lavoriamo per la CIA senza dubbio la nostra privacy non verrebbe garantita infatti la CIA speriamo riterrebbe utile spendere il denaro necessario per seguire le nostre tracce ma per la maggior parte di noi speriamo ancora lo spionaggio non paga l'inefficienza delle strutture del mondo reale almeno in questo ambito significa che tutti noi godiamo di un livello decisamente notevole di privacy la riservatezza ci viene garantita da questa difficoltà non ci viene garantita tanto dalla legge non esiste alcuna legislazione che tuteli la privacy nei luoghi pubblici e in molti ambiti neppure dalle norme sociali è proprio divertente curiosare e spettegolare quanto piuttosto dai costi che deve affrontare chiunque voglia spiare quando entriamo in internet il costo per tenere traccia del materiale sfogliato è diventato decisamente minimo se siamo clienti di Amazon quando ne visitiamo le pagine il sito raccoglie le informazioni su ciò che abbiamo visto ce ne accorgiamo perché su un lato della pagina compare un elenco delle pagine visitate di recente ora grazie all'architettura della rete alla funzione dei cookie è più facile raccogliere i dati che evitare di farlo la difficoltà è scomparsa e così sparisce anche la privacy che questa proteggeva il problema naturalmente non è Amazon ma le biblioteche potrebbero diventarlo se siete uno di quei fanatici di sinistra che pensano che la gente debba avere il diritto di curiosare in una biblioteca senza che il governo sappia quali libri sta sfogliando anch'io mi considero uno di loro allora questa trasformazione della tecnologia di monitoraggio potrebbe preoccuparvi se negli spazi elettronici diventa semplice raccogliere e classificare i dati su chiunque entri o faccia qualcosa allora scompare la riservatezza del passato indotta dalle difficoltà operative è questa realtà che spiega la pressione esercitata da molti per delineare i termini della privacy su internet ti si rende conto che la tecnologia può toglierci quello che in passato la difficoltà operativa ci garantiva e quindi molti di noi premono per ottenere leggi di regolamentazione chi si sia o meno a favore di tali leggi l'importante qui è il modello dobbiamo agire attivamente per assicurare quel tipo di libertà che prima ci veniva fornita passivamente il cambiamento della tecnologia costringe ora coloro che credono nella privacy ad agire in modo propositivo mentre prima la riservatezza era considerata un'impostazione predefinita potremmo raccontare una storia simile sulla nascita del movimento per il software libero quando i computer dotati di software comparvero per la prima volta sul mercato commerciale il software sia i codici sorgenti sia i file binari era libero non era possibile far girare un programma scritto per un computer della data general su una macchina dell'IBM e quindi nessuna delle due aziende si preoccupava di controllare i rispettivi programmi questo era il mondo in cui nacque Richard Stellman mentre era ricercatore del MTI iniziò ad amare quella comunità di sviluppatori in un'epoca in cui si era liberi di esplorare e manipolare il software essendo un tipo ingegnoso e un programmatore di talento Stellman si abituò sempre più alla libertà di arricchire e di modificare il lavoro altrui nell'ambiente accademico quantomeno questa non è un'idea particolarmente radicale nel dipartimento di matematica chiunque era libero di intervenire su una dimostrazione di un altro se qualcuno credeva di aver trovato un modo migliore di dimostrare un teorema modificava ciò che un altro aveva proposto nel dipartimento di lettere classiche se pensavate che la traduzione fatta da un collega di un testo recentemente scoperto fosse lacunosa eravate liberi di migliorarla così a Stellman sembrò ovvio che chiunque potesse essere libero di manipolare e di perfezionare il codice che faceva girare un computer anche questa era conoscenza perché non avrebbe dovuto essere aperta alle critiche come qualsiasi altra materia nessuno rispose alla domanda ma nel frattempo l'architettura commerciale in campo informatico si trasformò man mano che fu possibile importare programmi da un sistema all'altro divenne economicamente conveniente almeno da un certo punto di vista nascondere il codice del programma lo stesso avvenne quando le aziende iniziarono a vendere periferiche per il mainframe se qualcuno avesse potuto prendere il driver di una stampante e copiarlo allora per lui sarebbe stato più semplice vendere la stampante cominciò così a diffondersi la pratica del codice proprietario che all'inizio degli anni 80 Stelman se ne trovò circondato il mondo del software libero era stato sradicato da una trasformazione dell'economia in ambito informatico ed egli riteneva che se non avesse fatto qualcosa allora la libertà di modificare e di condividere il software sarebbe stata indebolita in maniera sostanzialista di conseguenza nel 1984 Stelman avviò il progetto di costruzione di un sistema operativo libero in tal modo sopravvisse almeno un filone di software libero quella fu la nascita del progetto GNU al quale venne poi aggiunto il kernel Linux che produsse il sistema operativo GNU-Linux la tecnica di Stelman consisteva nell'usare la legge sul copyright per realizzare un ambiente in cui il software sarebbe dovuto rimanere libero il software tutelato dalla General Public License della Free Software Foundation non può essere modificato e distribuito senza rendere disponibile anche il relativo codice sorgente così chiunque aggiunga qualcosa al software tutelato da tale licenza dovrebbe rendere libere anche le aggiunte questo procedimento avrebbe assicurato così riteneva Stelman lo sviluppo di un'ecologia del codice quest'ultimo rimaneva libero in modo che altri potessero farvi ulteriori interventi l'obiettivo fondamentale era la libertà il codice innovativo e creativo fu un prodotto collaterale Stelman faceva così per il software ciò che oggi fanno per la privacy i suoi sostenitori egli cercava un modo per costruire quel tipo di libertà che prima veniva data per scontata tramite l'uso di licenze che vincolano il codice sotto copyright Stelman riclamava in maniera propositiva uno spazio in cui il software libero sarebbe sopravvissuto tutelava in modo attivo quel che prima veniva garantito in modo passivo consideriamo infine un caso recente che concerne più direttamente le vicende di questo libro si tratta del cambiamento avvenuto nel processo produttivo delle pubblicazioni accademiche scientifiche con lo sviluppo delle tecnologie digitali per molti sta diventando ovvio che stampare migliaia di copie di riviste ogni mese e spedire alle biblioteche forse non è il modo più efficace per far circolare la conoscenza le pubblicazioni stanno diventando in misura sempre maggiore elettroniche e agli utenti delle biblioteche se ne offre l'accesso tramite siti protetti da password qualcosa di analogo è avvenuto per quasi 30 anni in campo giuridico Lexis e Westlove hanno messo a disposizione degli abbonati ai propri servizi le versioni elettroniche delle sentenze giudiziarie anche se le sentenze della Corte Suprema non sono protette da copyright e chiunque è libero di andare a una biblioteca e leggerle Lexis e Westlove sono ugualmente liberi di imporre delle tariffe agli utenti per il privilegio di avere accesso a quelle sentenze tramite rispettivi servizi in generale non c'è nulla di errato in questa pratica e anzi la possibilità di far pagare l'accesso perfino a materiale di pubblico dominio rappresenta un incentivo allo sviluppo di modalità innovative di diffusione della conoscenza poiché la legge si è dichiarata d'accordo Lexis e Westlove hanno avuto la possibilità di svilupparsi e se non c'è nulla di illegale a vendere materiale di pubblico dominio allora lo stesso dovrebbe valere in linea di principio per la vendita dell'accesso a materiale non di pubblico dominio ma che cosa succederebbe se l'unico modo per accedere alle informazioni sociali e scientifiche fosse quello offerto dai servizi proprietari se l'unica possibilità di consultare quei dati fosse pagare un abbonamento come molti incominciano a notare questa è sempre più la realtà dell'editoria scientifica quando tali pubblicazioni venivano distribuite in formato cartaceo le biblioteche le mettevano a disposizione di chiunque così i pazienti colpiti da un cancro potevano documentarsi sulla loro malattia grazie all'accesso fornito dalla biblioteca oppure i pazienti che cercavano di capire i rischi di una certa cura potevano condurre ricerche specifiche leggendo tutti gli articoli disponibili sull'argomento questa libertà era una funzione dell'istituzione bibliotecaria norme e della tecnologia delle riviste cartacee architettura soprattutto perché era molto difficile controllare l'accesso a tali pubblicazioni con il passaggio alle riviste elettroniche tuttavia gli editori richiesero alle biblioteche di non metterle a disposizione del pubblico ciò significa che le libertà garantite dalle pubblicazioni cartacee nelle biblioteche pubbliche iniziarono a diminuire ovvero come avviene per la privacy e per il software un cambiamento nella tecnologia e nel mercato limita una libertà considerata acquisita questo cambiamento ha spinto molti a impegnarsi in concreto per ripristinare la libertà perduta la public library of science per esempio è una corporation no profit che rende disponibili le ricerche scientifiche a chiunque abbia una connessione web gli autori presentano i loro lavori scientifici alla public library of science dove sono poi sottoposti alla valutazione dei colleghi se sono accettati vengono depositati in un archivio elettronico pubblico e resi disponibili in modo permanente e gratuito public library of science vende anche la versione stampata delle ricerche ma il copyright che la tutela non inibisce il diritto a ridistribuire il lavoro gratuitamente questo è uno dei tentativi di ripristinare una libertà data per scontata in passato ma ora minacciata dal mutamento della tecnologia e dei mercati non c'è dubbio che tutto ciò entri in competizione con gli editori tradizionali e con i loro sforzi di guadagnare attraverso una distribuzione esclusiva dei materiali ma nella nostra tradizione si ritiene che la competizione sia un fatto positivo specialmente quando aiuta la diffusione della conoscenza e della scienza ricostruire la cultura libera un'idea si potrebbe applicare la stessa strategia alla cultura come reazione al crescente controllo imposto dalla legge e dalla tecnologia e qui arriva creative commons citata di una corporation non profit registrata in massachusetts ma di casa presso la stanford university il suo obiettivo è realizzare un livello di copyright ragionevole al di là degli estremi che regnano oggi essa cerca di facilitare la creazione di opere sulla base di lavori altrui rendendo semplici agli autori sostenere che altri siano liberi di attingere al loro lavoro e di creare su di esso tutto grazie a semplici tag legati a descrizioni che le persone possono leggere e vincolati a licenze a prova di bomba semplice non vuol dire senza mediatori o senza avvocati sviluppando una serie di licenze libere che la gente può vincolare ai propri contenuti le creative commons puntano a contrassegnare una gamma di materiali su cui sia possibile costruire in modo facile e affidabile questi tag o contrassegni vengono poi collegati alle versioni delle licenze che il computer è in grado di leggere e che gli permettono di identificare automaticamente il contenuto per cui è possibile la condivisione l'insieme di questi tre elementi una licenza legale una descrizione che le persone possono leggere e tag che la macchina può leggere costituiscono una licenza creative commons la quale rappresenta una garanzia per la libertà di chiunque vi abbia accesso e cosa più importante un'espressione del fatto che la persona associata a questa licenza crede in qualcosa di diverso dagli estremi del tutto o niente il contenuto viene contrassegnato dal marchio si si che non sta a significare l'eliminazione del copyright ma la concessione di determinate libertà tali libertà vanno al di là di quelle permesse dal fair use i loro limiti dipendono dalle scelte operate dell'autore egli può scegliere una licenza che consenta qualsiasi utilizzo purché venga citata la paternità può optare per una licenza che permetta soltanto l'uso non commerciale può sceglierne una che conceda qualsiasi utilizzo purché le medecime libertà siano riconosciute agli utenti successivi oppure che consenta qualsiasi uso con l'esclusione di quello derivato o ancora che permetta ogni impiego possibile all'interno delle nazioni in via di sviluppo o che permetta l'utilizzo di estratti parziali purché non se ne ricavino copie integrali o infine che accordi qualunque utilizzo in campo didattico queste opzioni stabiliscono così oltre all'impostazione predefinita della legge sul copyright una serie di libertà accordano altresì delle libertà che vanno al di là dell'uso legittimo tradizionale e fatto più importante esprimono queste libertà attraverso una procedura che gli utenti possono utilizzare e su cui possono fare affidamento senza la necessità di ricorrere a un avvocato le creative commons puntano perciò a costruire un ordine di contenuti governato da un livello ragionevole di normativa sul copyright su quale altri possono costruire le scelte volontarie di individui e di autori renderanno disponibile questo materiale il quale a sua volta ci permetterà di ricostruire il pubblico dominio questo è soltanto uno dei molti progetti attivati all'interno delle creative commons che non sono naturalmente l'unica organizzazione che persegua simili libertà ma c'è un punto che distingue le creative commons dalle altre noi non siamo interessati soltanto a discutere del pubblico dominio o a farci che i legislatori contribuiscono a realizzarlo il nostro obiettivo è dare vita a un movimento di consumatori e di produttori gestori di contenuti come li definisce l'avvocato Mia Gerlich che contribuiscano alla costruzione del pubblico dominio e con il loro impegno ne dimostrino l'importanza per la creatività altrui lo scopo non è combattere contro i sostenitori del tutti i diritti riservati piuttosto è quello di essere complementari ad essi i problemi che la normativa crea per la nostra cultura sono prodotti dalle conseguenze folli e involontarie di leggi scritte secoli fa applicate a tecnologie che soltanto Jefferson avrebbe potuto immaginare le regole potevano avere un senso nel contesto di tecnologie che risalgono a secoli addietro ma non lo hanno più nell'ambito di quelle digitali occorrono nuove regole con libertà differenti espresse in modo che la gente comune possa usarle senza l'aiuto di avvocati le creative commons offrono una modalità efficace per iniziare a costruire queste regole perché gli autori dovrebbero partecipare a questa procedura per l'abbandono del controllo totale alcuni lo fanno per diffondere meglio i propri materiali coli doctor per esempio è uno scrittore di fantascienza il suo primo romanzo down and out in the magic kingdom è stato distribuito gratuitamente online con una licenza creative commons lo stesso giorno in cui è stato messo in vendita in libreria perché una casa editrice dovrebbe essere d'accordo con una simile iniziativa ho il sospetto che il suo editore abbia ragionato così ci sono due gruppi di persone quelle che compreranno comunque il libro di cori indipendentemente dalla sua presenza su internet e due quelle che non saprebbero mai nulla del libro se esso non fosse disponibile gratuitamente su internet qualcuno appartenente al gruppo 1 scaricherà il libro di cori anziché acquistarlo chiamiamoli cattivi alcuni che fanno parte del gruppo 2 lo scaricheranno lo troveranno bello e poi decideranno di comprarlo chiamiamoli buoni se i buoni sono più numerosi dei cattivi la strategia di diffondere gratuitamente online il libro di cori probabilmente ne farà aumentare la vendita in libreria l'esperienza dell'editore ha portato chiaramente a quest'ultima conclusione la prima tiratura è andata esaurita mesi prima di quanto avesse previsto l'editore così questo primo romanzo di uno scrittore di fantascienza ha ottenuto pieno successo l'idea che contenuti liberi possano aumentare il valore di materiali non liberi ha trovato conferma nell'esperienza di un altro autore peter weiner che ha scritto un libro sul movimento del software libero intitolato free for all ne ha reso disponibile online una versione elettronica gratuita tutelata da una licenza creative commons dopo che il libro era uscito dal catalogo ha deciso poi di seguire l'andamento del prezzo del libro nelle librerie dell'usato come previsto di pari passo con l'incremento delle copie scaricate è aumentato anche il prezzo del libro usato questi sono esempi di utilizzo di licenze creative commons per diffondere meglio i contenuti proprietari lo ritengo un uso ottimo e normale altri usano le licenze creative commons per motivi diversi molti scelgono la sampling license utilizzo di estratti parziali perché qualsiasi altra opzione sarebbe ipocrita questa licenza dice che gli altri sono liberi di appropriarsi di una parte dell'opera a scopo commerciale o non commerciale però non sono liberi di copiarla per intero e di metterla a disposizione di altre persone è un atteggiamento coerente con la produzione artistica di questi autori anch'essi infatti estraggono parti dei contenuti altrui poiché le spese legali per queste operazioni sono molto alte questi artisti diffondono nel loro ambiente materiale su cui altri possono costruire in modo da sviluppare così una propria forma di creatività ci sono infine molti autori che contrassegnano i loro materiali con una licenza creative commons soltanto perché vogliono dimostrare l'importanza di un equilibrio in questo dibattito se si segue semplicemente il sistema così com'è in concreto si dichiara di credere nel modello tutti i diritti riservati un modello buono per qualcuno ma non per molti parecchi pensano che questa norma pur essendo appropriata per hollywood e per artisti stravaganti non esprima adeguatamente il modo in cui la maggior parte degli autori considera i diritti associati ai propri contenuti la licenza creative commons dà corpo a un modello alcuni diritti riservati e offre a molti autori la possibilità di comunicarlo agli altri nei primi sei mesi dell'esperimento delle creative commons più di un milione di lavori sono stati contrassegnati con queste licenze della cultura libera il passo successivo è la costituzione di partnership con i provider midware per aiutarli a inserire nelle loro tecnologie modalità semplici che consentano ai loro utenti di contrassegnare i materiali con le licenze della creative commons a quel punto un ulteriore passo sarà individuare e apprezzare gli autori che realizzano opere basate su contenuti resiliberi questi sono i primi passi verso la ricostruzione del pubblico dominio non si tratta di semplici argomentazioni teoriche si tratta di azioni concrete costruire un pubblico dominio è il primo passo per dimostrare la sua importanza per la creatività e per l'innovazione le creative commons si fondano per raggiungere questo scopo su interventi decisi volontariamente contribuiranno così a creare un mondo in cui diventerà possibile qualcosa di più della libera volontà di poche persone le creative commons sono soltanto un esempio dello sforzo messo in atto volontariamente da singoli individui e da autori per cambiare l'insieme dei diritti che oggi governano l'ambito creativo il progetto non è in competizione con il copyright ne è un complemento il suo obiettivo non è eliminare i diritti degli autori ma facilitare ai creatori l'esercizio dei propri diritti in un modo più flessibile e meno oneroso questo impegno così crediamo faciliterà la diffusione della creatività loro presto non possiamo pretendere di ottenere una cultura libera soltanto attraverso interventi individuali sono necessarie anche importanti riforme legislative dobbiamo fare parecchia strada prima che i politici diano ascolto a queste idee e mettano in atto queste riforme ma ciò significa anche che abbiamo tempo per costruire una consapevolezza dei cambiamenti di cui abbiamo bisogno in questo capitolo provo a delineare cinque tipi di modifiche quattro generali e una che si riferisce in particolare alla battaglia più calda del giorno la musica ognuna rappresenta un mezzo non un fine ma ogni passaggio ci renderà molto più vicino all'obiettivo finale uno più formalità se acquistiamo una casa dobbiamo registrare l'acquisto presso un notaio se compriamo un terreno sul quale costruire una casa questo va regolarmente registrato se acquistiamo un'automobile dobbiamo immatricolarla se compriamo un biglietto aereo sopra c'è scritto il nostro nome si tratta di formalità associate alla proprietà sono requisiti che tutti noi dobbiamo rispettare se vogliamo che la nostra proprietà sia tutelata al contrario secondo l'attuale legge del copyright la tutela viene ottenuta automaticamente che si proceda o meno a qualsiasi formalità non occorre effettuare alcuna registrazione non bisogna neppure porre un marchio sull'opera l'impostazione predefinita è il controllo e le formalità vengono abbandite perché? come ho già suggerito nel capitolo 10 c'è un buon motivo per abolire le formalità nel mondo precedente alle tecnologie digitali le formalità imponevano un onere ai titolari del diritto d'autore senza offrire troppi benefici fu perciò un passo avanti quando la legge allentò i requisiti formali imposti ai titolari per proteggere e assicurare i loro lavori quelle formalità stavano diventando un intralcio ma internet ha cambiato il quadro ora le formalità non sono più un fardello piuttosto è il mondo senza formalità che finisce per pesare sulla creatività oggi non esiste un modo per sapere rapidamente chi possiede qualcosa e chi interpellare per usare un lavoro creativo altrui e costruire su di esso non esistono archivi non c'è alcun sistema che conservi i dati non è possibile sapere con facilità come chiedere l'autorizzazione eppure visto il notevole ampliamento del raggio d'azione delle regole sul copyright ottenere il permesso è un passo necessario per qualsiasi opera che voglia costruire sul passato e così l'assenza di formalità costringe al silenzio molti che altrimenti si esprimerebbero la legge dovrebbe perciò modificare questo requisito ma non tornando al vecchio sistema superato dovremmo imporre delle formalità stabilendo però un sistema che preveda degli incentivi che ne riducano al minimo l'onere le formalità importanti sono tre contrassegnare le opere tutelate dal copyright registrarle e rinnovare la richiesta di copyright tradizionalmente della prima si occupava il titolare del copyright le altre due aspettavano al governo ma la revisione del sistema eliminerebbe dal processo il governo il quale dovrebbe soltanto approvare gli standard sviluppati da altri registrazione e rinnovo con il vecchio sistema il titolare del diritto d'autore doveva presentare una domanda presso l'ufficio del copyright per registrarlo o rinnovarlo all'atto della presentazione pagava una certa tariffa come per la maggioranza delle agenzie governative l'ufficio del copyright aveva scarso interesse a ridurre l'onere della registrazione e a diminuire la cifra dovuta e poiché quell'ufficio non rientra fra i maggiori interessi delle politiche governative storicamente ha sempre ricevuto stanziamenti assai ridotti perciò e quando le persone che conoscono tale procedura sentono parlare di questa idea delle formalità la prima reazione è il panico non ci potrebbe essere niente di peggio che costringere la gente ad avere a che fare con il caos dell'ufficio del copyright eppure rimango sempre meravigliato dal fatto che noi provenienti da una tradizione di straordinaria innovazione nel campo della progettualità governativa non siamo più capaci di concepire in maniera innovativa le modalità funzionali del governo anche se il ruolo governativo ha un obiettivo pubblico non ne consegue che il governo debba amministrare in concreto quel ruolo occorre invece creare degli incentivi affinché organismi privati servano il pubblico seguendo gli standard impostati dal governo nel contesto della registrazione un modello ovvio è internet esistono almeno 32 milioni di siti web registrati in tutto il mondo i proprietari dei relativi nomi di dominio devono pagare una quota per mantenere attiva la registrazione nei domini di massimo livello com.org.net esiste un'anagrafe centralizzata le registrazioni vere e proprie tuttavia vengono eseguite da diverse società concorrenti la competizione fa abbassare il costo della registrazione e cosa più importante influisce sulla facilità della procedura dovremmo adottare un modello analogo per la registrazione e il rinnovo del copyright l'ufficio del copyright potrebbe funzionare come anagrafe centrale senza però occuparsi della registrazione dovrebbe piuttosto mettere a punto un database e una serie di standard per i soggetti che si occuperanno delle registrazioni e dare l'approvazione agli enti che rispettano tali standard poi gli enti sarebbero in concorrenza tra loro per offrire i sistemi più semplici ed economici per la registrazione e il rinnovo del copyright la competizione ridurrebbe in maniera sostanziale l'onere di questa formalità consentendo al contempo la realizzazione di un database che faciliterebbe l'acquisizione di licenze sul materiale contrassegno in passato la mancanza della nota di copyright su un lavoro creativo stava a significare la revoca del diritto d'autore era una pesante sanzione a chi non aveva adempiuto a una norma equivalente nel mondo dei diritti creativi all'imposizione della pena di morte per aver trasgredito a un divieto di parcheggio non c'è alcun motivo per applicare in questo modo il requisito sul contrassegno fatto più importante non esiste alcuna ragione per cui tale requisito venga applicato nello stesso modo a tutti i mezzi espressivi lo scopo del marchio è quello di indicare al pubblico che l'opera è sotto copyright e che l'autore vuole affermare i propri diritti inoltre il marchio facilita l'individuazione del titolare per ottenere il permesso a fare uso del suo lavoro uno dei problemi del sistema del copyright evidenziatosi fin dall'inizio fu che opere differenti dovevano essere contrassegnate in modo diverso non era chiaro come o dove apporre il marchio su una statua su un disco o su una pellicola cinematografica un nuovo tipo di requisito risolverebbe questi problemi riconoscendo le differenze dei vari supporti e permettendo al sistema del contrassegno di evolversi insieme alle tecnologie il sistema potrebbe attivare una segnalazione riguardante la mancanza del marchio la conseguenza non sarebbe la perdita del copyright ma quella del diritto di punire qualcuno per non aver richiesto un permesso partiamo da quest'ultimo punto se il titolare di un copyright consentisse la pubblicazione della sua opera priva della relativa nota la conseguenza di questa mancanza non dovrebbe essere la privazione del diritto d'autore dovrebbe invece essere il fatto che chiunque avrebbe il diritto all'uso di tale opera fino a quando il titolare protestasse e dimostrasse che si tratta di un suo lavoro su cui non ha concesso alcun permesso il significato di un'opera priva di marchio sarebbe perciò che l'uso è consentito a meno che qualcuno reclami se ciò avvenisse allora bisognerebbe bloccarne l'utilizzo in ogni nuova creazione da quel momento in poi anche se nessuna sanzione verrebbe applicata agli utilizzi precedenti tale norma costituirebbe un forte incentivo affinché i titolari del copyright provvedano ad apporre il marchio alle loro opere tale norma solleva anche la domanda sul modo migliore per contrassegnare i lavori come ho già detto in questo caso il sistema deve adeguarsi all'evoluzione tecnologica il modo migliore per assicurarsi che il sistema possa evolvere è limitare il ruolo dell'ufficio del copyright all'approvazione di standard per contrassegnare il materiale realizzato altrove per esempio se un'associazione legata all'industria discografica mettesse a punto un metodo per apporre il marchio sui cd potrebbe proporlo all'ufficio del copyright questo potrebbe organizzare un'udienza pubblica in cui sarebbe possibile presentare altre proposte alla fine l'ufficio selezionerebbe quella che giudica migliore basando la scelta unicamente sulla valutazione di quale sia il metodo che si integra meglio con il sistema di registrazione di rinnovo non chiederemmo al governo un metodo innovativo gli chiederemmo solo di mantenere il prodotto dell'innovazione in linea con le sue altre importanti funzioni infine apporre il marchio sui contenuti semplificherebbe chiaramente i requisiti per la registrazione se le fotografie avessero un'indicazione dell'autore dell'anno non ci sarebbe motivo per impedire a un fotografo di registrare di nuovo per esempio tutte le fotografie scattate in un certo anno tramite una sola rapida procedura lo scopo della formalità non è di pesare sull'autore il sistema in quanto tale dovrebbe essere semplificato al massimo l'obiettivo delle formalità è di rendere chiare le situazioni il sistema attuale non fa nulla in tal senso sembra anzi progettato per confondere le cose se venissero reintrodotte formalità come la registrazione si eliminerebbe uno degli aspetti che rendono più difficile fare affidamento sul pubblico dominio sarebbe semplice identificare quali siano i contenuti presumibilmente liberi sarebbe facile localizzare chi controlla i diritti di un determinato tipo di materiale sarebbe agevole far valere quei diritti rinnovarne la validità al momento opportuno 2 termini più brevi la durata del copyright è passata da 14 a 95 anni se gli autori sono società ed è pari alla vita dell'autore più 70 anni se si tratta di una persona in the future of idea avevo proposto un termine di 75 anni garantito attraverso incrementi di 5 anni con l'obbligo di fare richiesta di rinnovo ogni 5 anni all'epoca la mia proposta appariva abbastanza radicale ma dopo che abbiamo perso la causa a red le proposte diventarono ancora più radicali The Economist ne appoggiò una per una durata di 14 anni altri hanno prospettato un termine analogo a quello dei brevetti concordo con quanti ritengono necessario un cambiamento radicale della durata del copyright ma che sia di 14 o di 75 anni ci sono 4 principi al riguardo che è importante tenere a mente brevità la durata dovrebbe essere lunga abbastanza da offrire incentivi a creare ma non di più qualora il termine fosse legato a una tutela molto forte per gli autori in modo da consentire loro di reclamare i diritti dagli editori si potrebbe consentire l'ulteriore estensione dei diritti su quel lavoro non sulle opere derivate il punto chiave è evitare di vincolare l'opera con regolamentazioni legali quando non arrecca più benefici all'autore semplicità la linea di demarcazione tra pubblico dominio e materiale tutelato va mantenuta ben chiara agli avvocati piace la confusione del fair use e la distinzione tra idee ed espressione questo tipo di normativa procura loro parecchio lavoro ma gli estensori della nostra costituzione avevano in mente un'idea più semplice protezione o non protezione l'importanza dei termini brevi è che non richiedono di creare eccezioni nell'ambito del copyright una zona libera da avvocati ben delimitata è attiva diminuisce la necessità di navigare tra le complessità del fair use e della distinzione idea espressione continuità il copyright deve essere rinnovato specialmente se il termine massimo è lungo il titolare deve indicare periodicamente la volontà che la tutela continui non occorre che ciò sia un'inconvenza onerosa ma non c'è ragione per cui questa protezione monopolistica debba essere garantita gratuitamente in media un ex combattente impiega 90 minuti per compilare la domanda per la pensione se imponiamo quest'onero agli ex combattenti non vedo perché non potremmo chiedere agli autori di impiegare 10 minuti ogni 50 anni per compilare un modulo prospettiva qualunque sia la durata del copyright la lezione più chiara impartita dagli economisti è che il termine una volta deciso non va esteso forse era sbagliata la legge che nel 1923 riconobbe agli autori una durata del copyright di solo 56 anni non credo ma può darsi se fosse stata un errore allora la conseguenza sarebbe stata la registrazione di un numero minore di creazioni nel 1923 ma oggi non possiamo correggere quell'errore estendendo la durata dei termini non importa che cosa decidiamo ora non potremo comunque aumentare il numero degli iscrittori del 1923 naturalmente possiamo aumentare il guadagno degli autori contemporanei oppure appesantire ulteriormente il copyright che oggi soffoca molte opere invisibili ma un compenso più alto non farebbe aumentare il livello di creatività del 1923 quel che hai fatto è fatto e adesso non possiamo più cambiarlo l'insieme di queste modifiche determinerebbe un termine medio assai più breve di quello attuale fin dal 1976 la durata media era di appena 32,2 anni dovremmo puntare a qualcosa di analogo senza dubbio gli estremisti definiranno radicali queste idee non per nulla li chiamo estremisti ma il termine consigliato da me era più lungo di quello in vigore sotto Richard Nixon fino a che punto si può definire radicale la proposta di una legge sul copyright più generosa di quella in vigore durante la presidenza di Richard Nixon 3, uso libero contro uso legittimo come ho osservato all'inizio del libro originariamente la legge sulla proprietà garantiva ai titolari il diritto di controllare quanto possedevano dalla terra fino al cielo poi arrivò l'aeroplano il raggio di azione dei diritti di proprietà cambiò rapidamente nessuna agitazione nessuna sfida costituzionale non aveva più senso garantire un grado di controllo così alto dopo la nascita di quella nuova tecnologia la nostra costituzione riconosce al congresso l'autorità di assegnare agli autori il diritto esclusivo sui propri scritti il congresso ha riconosciuto loro il diritto esclusivo sui propri scritti e inoltre su ogni opera derivata creata da altri che sia sufficientemente vicina all'opera originale così se scrivo un libro e qualcuno ci fa sopra un film ho l'autorità di negargli il diritto di far uscire quel film anche se non si tratta di un mio scritto il congresso decretò l'inizio di questo diritto nel 1870 quando ampliò il diritto esclusivo del copyright aggiungendovi quello sul controllo delle traduzioni e della messa in scena di un'opera da allora i tribunali lo hanno lentamente esteso attraverso l'interpretazione giuridica ecco il commento di uno dei giudici più importanti della storia statunitense ci siamo talmente a suoi fatti all'estensione del monopolio a un'ampia gamma di cosiddette opere derivate che non ci accorgiamo più di quanto sia strano accettare un simile ampliamento del copyright mentre intoniamo l'abracadabra dell'idea e dell'espressione credo sia giunto il momento di riconoscere che anche in questo campo sono arrivati gli aeroplani e che l'espansione dei diritti sull'uso derivato non ha più alcun senso per essere più precisi tali diritti non hanno senso per il periodo di tempo in cui esiste il copyright e non hanno senso se sono una garanzia amorfa prendiamo in considerazione una limitazione alla volta durata se il congresso vuole riconoscere i diritti su un'opera derivata allora la loro durata dovrebbe essere molto più breve ha senso tutelare il diritto di John Grisham a vendere i diritti cinematografici del suo ultimo romanzo o almeno suppongo che sia così ma non ha senso assegnare a quel diritto all'identica durata del copyright sottostante il diritto derivato potrebbe essere importante per stimolare la creatività non è più tale una volta portata a termine l'opera creativa portata analogamente andrebbe ridotta la portata dei diritti derivati ci sono naturalmente alcuni casi in cui tali diritti sono importanti e questi dovrebbero essere specificati ma la legge dovrebbe tracciare linee precise che distinguono gli utilizzi regolamentati e non regolamentati del materiale sotto copyright quando ogni riutilizzo del materiale creativo rimaneva sotto il controllo delle aziende forse aveva senso chiedere agli avvocati di negoziare quelle linee ma ora non ha più senso pensiamo a tutto il potenziale di creatività reso possibile dalle tecnologie digitali immaginiamo ora di versare melassa nei computer ecco l'effetto di questo obbligo generalizzato di richiedere permessi sul processo creativo lo soffoca questo era il punto sottolineato da alben nel descrivere la realizzazione del cd su clint eastwood mentre ha senso negoziare per i diritti derivati prevedibili trasformare un libro in un film o una poesia nello spartito di una canzone non ha senso imporre di intavolare trattative per quelli imprevedibili in questo caso avrebbe molto più senso un diritto regolamentato dalla legge e in ciascuna di questi casi la legge dovrebbe contrassegnare gli usi tutelati dando per scontato che gli altri utilizzi non lo siano esattamente il contrario di ciò che propone il mio collega Paul Goldstein secondo lui la legge dovrebbe richiedere che l'estensione della tutela proceda di pari passo con quella degli utilizzi l'analisi di Goldstein sarebbe perfettamente sensata se i costi del sistema legale fossero abbordabili ma come si può notare attualmente nel contesto di internet l'incertezza sul raggio di azione della tutela e gli incentivi a proteggere le strutture esistenti che regolano il flusso delle entrate combinati con un copyright forte indeboliscono il processo innovativo la legge la legge la legge potrebbe porre rimedio a questo problema eliminando la tutela al di là di una precisa e chiara linea di demarcazione oppure garantendo i diritti al riutilizzo in base a determinate condizioni regolate per legge in ogni caso l'effetto sarebbe quello di liberare una grande quantità di cultura perché altri possano coltivarla e nell'ambito di un regime di diritti regolati per legge tale utilizzo porterebbe maggiori guadagni agli artisti liberate la musica ancora una volta lo scontro che ha fatto scoppiare la guerra è stato quello sulla musica perciò non sarebbe giusto terminare questo libro senza affrontare la questione che per la maggior parte di noi è la più urgente la musica non esiste un altro tema politico in grado di chiarire meglio la mia posizione di quello relativo alle lotte scatenate dalla condivisione della musica il fascino del fine sharing musicale è stato come una droga per la crescita di internet ha fatto aumentare la richiesta di accesso alla rete di gran lunga più di qualsiasi altra applicazione è stata la killer application di internet in tutti i sensi senza dubbio è stata l'applicazione che ha dato impulso alla domanda di una banda larga magari si rivelerà anche quella che provocherà l'esigenza di regolamentazioni che finiranno per uccidere l'innovazione in rete l'obiettivo del copyright riguardo ai contenuti in generale e alla musica in particolare è di creare incentivi per la creazione per l'esecuzione e fatto più importante per la diffusione della musica a questo scopo la legge assegna ai compositori il diritto esclusivo al controllo sulle esecuzioni pubbliche dei lavori e ad altri tipi di artisti quello sulle copie delle loro rappresentazioni le reti di file sharing complicano questo modello consentendo la diffusione di materiali per i quali l'artista non ha ricevuto alcun compenso ma naturalmente l'attività di tali reti non si limita a questo come ho scritto nel capitolo 5 esse danno vita a 4 tipi diversi di condivisione alcuni usano le reti di file sharing in sostituzione dell'acquisto di cd altri vi ricorrono per ascoltare delle anteprime prima dell'acquisto dei cd molti le usano per accedere a materiali non più in vendita ma tuttora sotto copyright e che sarebbe troppo difficile comprare al di fuori di internet molti ancora le utilizzano per accedere a contenuti non protetti da copyright o per i quali il titolare del copyright incoraggia apertamente l'accesso qualsiasi riforma legislativa deve prendere in attenta considerazione questi differenti modi di utilizzo deve evitare di colpire il tipo D anche se mira a eliminare il gruppo A l'ansia della legge di liberarsi del tipo A inoltre dovrebbe dipendere da quanto è vasta la categoria B come avviene per i videoregistratori se l'effetto della condivisione in realtà non è poi così dannoso la necessità di regolamentazione si attenua in maniera significativa come ho spiegato nel capitolo 5 il danno concreto derivante dalla condivisione è discutibile in questo capitolo tuttavia do per scontato che sia reale in altre parole presumo che la condivisione di tipo A sia molto più diffusa di quella di tipo B e rappresenti l'uso più importante delle reti di file sharing tuttavia c'è un elemento essenziale riguardo l'attuale contesto tecnologico che dobbiamo tenere a mente se vogliamo comprendere quale dovrebbe essere la risposta della legge oggi il file sharing crea suefazione fra dieci anni non sarà più così oggi questo avviene perché il file sharing è il modo più facile per accedere ad una vasta gamma di contenuti non lo sarà più fra dieci anni oggi l'accesso a internet è pesante e lento negli Stati Uniti siamo fortunati ad avere un servizio a banda larga a 1,5 megabyte ma raramente raggiungiamo questa velocità sia in ricezione sia in trasmissione nonostante sia aumentata la diffusione dell'accesso senza fili la maggior parte di noi ricorre ancora a linee terrestri per lo più l'accesso avviene tramite un computer dotato di tastiera l'idea di essere sempre collegati a internet rimane in genere soltanto tale ma diventerà una realtà e ciò significa che la tecnologia che ci permette di accedere alla rete è in fase di transizione i legislatori non dovrebbero prendere decisioni sulla base di tecnologia in evoluzione ma dovrebbero valutare in quale direzione esse stanno dirigendosi la domanda non dovrebbe essere in che modo la legge deve regolamentare la condivisione in questo mondo dovrebbe essere di quali norme avremo bisogno quando la rete diventerà ciò che sembra destinata a diventare in quella rete ogni macchina dotata di elettricità sarà sostanzialmente in internet ovunque ci troveremo ad eccezione forse del deserto o delle montagne rocciose ci potremo collegare estentaneamente alla rete possiamo immaginare che internet avrà la stessa diffusione del miglior servizio di telefonia cellulare dove basta premere un pulsante per ritrovarsi online in quel modo sarà estremamente facile collegarsi a servizi che offrano accesso al volo come la radio via internet con i contenuti trasmessi mediante streaming quando l'utente li richieda ecco dunque il punto essenziale quando diventerà estremamente semplice collegarsi a servizi che danno accesso a contenuti sarà più facile comportarsi in tal modo che scaricare e archiviare il materiale sui numerosi apparecchi per la sua riproduzione di cui disporremmo sarà più facile in altri termini sottoscrivere degli abbonamenti piuttosto che gestire un database cosa che deve sostanzialmente fare chiunque operi nel mondo delle tecnologie scarica i condividi di tipo Napster i servizi che offrono contenuti saranno in concorrenza con quelli di file sharing anche se si dovrà pagare per il materiale a cui danno accesso in Giappone i servizi di telefonia cellulare offrono già musica a pagamento trasmessa via streaming sul cellulare amplificata tramite apposite cuffie i giapponesi pagano per questo materiale anche se quello gratuito rimane disponibile sul web sotto forma di file mp3 questa descrizione del futuro intende suggerire una prospettiva del presente che è in una fase di estrema transizione il problema del file sharing se esiste davvero un problema reale è che questo finirà gradatamente per sparire man mano che diventerà più facile collegarsi a internet e quindi i legislatori stanno commettendo un errore enorme nel pretendere di risolvere oggi questo problema alla luce di una tecnologia che domani sarà obsoleta la questione non dovrebbe essere in che modo regolamentare internet per eliminare il file sharing sarà internet stessa ad evolvere e a far sparire il problema ci si dovrebbe piuttosto chiedere quale sia il modo per avere la certezza che gli artisti siano ricompensati in questa fase di transizione tra i modelli imprenditoriali del ventesimo secolo e le tecnologie del ventunesimo secolo per rispondere iniziamo con il renderci conto che esistono problemi differenti da risolvere partiamo dai contenuti di tipo D materiale protetto o meno da copyright che l'artista intende condividere il problema in questo caso è di assicurarsi che la tecnologia che serve ad attivare questo tipo di condivisione non diventi illegale facciamo un esempio senza dubbio si possono usare i telefoni pubblici per chiedere riscatto per un rapimento ma molti hanno la necessità di usare questi telefoni senza avere nulla a che fare con i riscatti sarebbe sbagliato dunque vietare i telefoni pubblici per eliminare i rapimenti i contenuti della categoria C sollevano un diverso problema si tratta di materiale che è stato pubblicato e che ora non è più disponibile potrebbe dipendere dal fatto che l'artista non vende più abbastanza per essere ancora distribuito dall'etichetta discografica con cui ha un contratto oppure l'opera potrebbe non essere più in circolazione perché è stata dimenticata qualunque sia il caso scopo della legge dovrebbe essere quello di facilitare l'accesso a quei contenuti possibilmente procurando qualche ritorno all'artista qui il modello è la libreria dell'usato una volta che un libro va fuori catalogo può ancora essere reperibile nelle biblioteche e nelle librerie dell'usato ma queste non ricompensano il titolare del copyright quando qualcuno legge o acquista uno di tali libri la cosa ha senso ovviamente perché qualsiasi altro sistema sarebbe talmente oneroso da eliminare la possibilità stessa dell'esistenza delle librerie dell'usato ma dal punto di vista dell'autore questa condivisione dei suoi contenuti senza alcuna ricompensa non è certo l'ideale il modello delle librerie dell'usato suggerisce il fatto che la legge potrebbe semplicemente considerare la musica fuori catalogo una preda consentita se l'editore non ne rende disponibili altre copie allora i rivenditori commerciali e non sarebbero liberi in base a questa regola di condividere quel materiale anche se giò significa farne una copia la quale in questo caso risulterebbe secondaria in un contesto in cui si è estinta la pubblicazione commerciale lo scambio di musica dovrebbe essere libero come quello dei libri in alternativa la legge potrebbe creare una licenza regolamentata in base alla quale gli artisti riceverebbero un compenso per il commercio dei loro lavori per esempio se esistesse una piccola tariffa regolata dalla legge per la condivisione commerciale di materiale che l'editore non vende più e se questa tariffa venisse automaticamente trasferita su un conto fiduciario a beneficio dell'artista allora potrebbe svilupparsi un'imprenditoria basata sullo scambio di questo materiale che sarebbe di giovamento anche agli artisti questo sistema creerebbe altresì un incentivo per gli editori a mantenere in circolazione le opere i lavori disponibili sul mercato non sarebbero soggetti a tale licenza così i loro editori potrebbero tutelare il loro diritto a imporre il prezzo che vogliono sul materiale disponibile a livello commerciale ma se non lo rendono disponibile e invece sono i computer degli appassionati in ogni parte del mondo a tenerlo vivo allora le royalties dovute per questa attività di copia dovrebbero essere molto inferiori a quelle dovute all'editore commerciale il caso difficile è rappresentato dal materiale di tipo A e B perché anche qui il livello del problema cambierà con il passare del tempo seguendo le trasformazioni delle tecnologie che offrono accesso ai contenuti la soluzione della legge dovrebbe essere flessibile quanto il problema con la consapevolezza che ci troviamo in una fase di trasformazione radicale della tecnologia per la diffusione e l'accesso dei materiali ecco allora una soluzione che a prima vista sembrerà molto strana a entrambi gli schieramenti ma che riflettendoci sopra come suggerisco dovrebbe avere un senso spogliata dalla retorica della sacralità della proprietà l'affermazione di base dell'industria produttrice di contenuti è questa una nuova tecnologia internet ha danneggiato una serie di diritti che assicurano il copyright se occorre tutelare tali diritti allora l'industria andrebbe rimborsata per quel danno come la tecnologia del tabacco ha rovinato la salute a milioni di americani o quella dell'amianto ha causato gravi malattie a migliaia di minatori così anche la tecnologia delle reti digitali ha danneggiato gli interessi dell'industria produttrice di contenuti io adoro internet perché non mi piace paragonarla al tabacco o all'amianto ma l'analogia è corretta dal punto di vista della legge e suggerisce una risposta onesta anziché mirare alla distruzione di internet o delle tecnologie per tu per che attualmente stanno danneggiando i fornitori di contenuti sulla rete dovremmo trovare un modo relativamente semplice per ricompensare coloro che subiscono i danni l'idea sarebbe la modifica di una proposta di William Fisher docente di giurisprudenza ad Howard che suggerisce un modo ingegnoso per aggirare l'attuale impasse di internet in base al suo progetto tutto il materiale che è possibile trasmettere per via digitale sarebbe contrassegnato con un apposito marchio digitale non preoccupiamoci di quanto sia facile aggirarlo come vedremo manca l'incentivo per farlo una volta contrassegnato il materiale gli imprenditori svilupperebbero sistemi per monitorare il numero di esemplari distribuiti di ciascun contenuto gli artisti sarebbero poi ricompensati sulla base di questo numero tali compensi verrebbero coperti da una tassazione appropriata la proposta di Fisher è attenta e consapevole solleva un milione di domande alla maggioranza delle quali egli risponde nel suo libro di prossima pubblicazione la modifica che io le apporterei è relativamente semplice Fisher immagina che la proposta sostituisca l'attuale sistema di copyright io la vedo come complemento l'obiettivo sarebbe quello di semplificare la ricompensa fino al punto in cui viene dimostrato il danno tale ricompensa sarebbe temporanea mirata a facilitare la transizione fra i due regimi e andrebbe rinnovata dopo un certo numero di anni se continua ad avere un senso facilitare il libero scambio del materiale finanziato da un sistema di tassazione allora potrebbe continuare se questa forma di tutela non è più necessaria allora si ritornerebbe al vecchio sistema basato sul controllo dell'accesso Fisher sarebbe contrario all'idea di fare decadere il sistema il suo scopo non è soltanto quello di assicurare il compenso agli artisti ma anche quello di fare sì che il sistema sostenga la più ampia gamma possibile di democrazia semiotica ma quest'ultimo obiettivo sarebbe raggiunto se si attuassero le altre modifiche che ho illustrato in particolare i limiti sugli usi derivati un sistema che imponga tariffe per il semplice accesso non peserebbe granché sulla democrazia semiotica se esistessero poche limitazioni al modo di utilizzare i contenuti stessi sarebbe indubbiamente difficile calcolare in misura adeguata il danno subito da un'industria ma la difficoltà di questi calcoli verrebbe compensata dal beneficio dell'innovazione questo sistema di compensazione non dovrebbe neppure interferire con proposte innovative come il music store della apple come avevano previsto gli esperti al momento del lancio il music store poteva avere la meglio sull'accesso gratuito grazie alla maggior semplicità previsione che si è dimostrata corretta la apple ha venduto milioni di canzoni a un prezzo molto alto 99 centesimi al pezzo questo prezzo è equivalente a quello di una canzone su un cd anche se le etichette discografiche non devono pagare i costi del cd la mossa della apple è stata rilanciata dal real networks che offre musica a soli 79 centesimi per canzone e senza dubbio ci sarà un'accesa concorrenza per l'offerta e la vendita di musica online tale competizione è stata già messa in atto per contrastare la musica gratuita dei sistemi per tu per come ben sanno da 30 anni i venditori della tv via cavo e quelli dell'acqua imbottigliata da più tempo ancora non è impossibile competere con il gratuito anzi la concorrenza stimola i rivali a offrire prodotti nuovi e migliori questo è esattamente ciò che si intende con mercato concorrenziale perciò a Singapore dove la pirateria impazza spesso i cinema sono lussuosi con poltrone di prima classe e pasti serviti durante la proiezione del film nel tentativo di trovare modi per competere con successo con il gratuito questo regime di concorrenza con una copertura per assicurarsi che non siano gli artisti a rimetterci faciliterebbe parecchio l'innovazione nella distribuzione dei contenuti esso continuerebbe a far diminuire la condivisione di tipo A ispirerebbe un gran numero di innovatori gente a cui spetterebbe il diritto sui contenuti e che non dovrebbe più temere le incertezze e le punizioni barbaramente severe della legge in sintesi dunque questa è la mia proposta internet è in fase di transizione e quindi non è il caso di regolamentarne la tecnologia dovremmo invece emanare regole per ridurre al minimo il danno agli interessi colpiti da questa trasformazione tecnologica mentre va abilitata e incoraggiata la tecnologia più efficiente che si possa creare possiamo minimizzare quel danno massimizzando al contempo il beneficio per l'innovazione nel modo seguente 1. garantendo il diritto di partecipare alla condivisione di tipo D 2. permettendo la condivisione non commerciale di tipo C senza responsabilità legali e quella commerciale sempre di tipo C a una tariffa bassa fissata dalla legge 3. introducendo in questa fase di transizione non è un sistema di tassazione che compensi la condivisione di tipo A nella misura in cui se ne dimostri il danno concreto ma come la metteremo se la pirateria non scomparisse che cosa succederebbe se ci fosse un mercato competitivo che fornisse contenuti a bassi costi ma un numero significativo di consumatori continuasse ad appropriarsi dei materiali senza dare nulla in cambio allora la legge dovrebbe intervenire? sì dovrebbe fare qualcosa ma di nuovo le misure da prendere dipenderebbero dal sviluppo dei fatti può darsi che questi cambiamenti non riescano a eliminare la condivisione di tipo A ma il problema non è la limitazione in astratto è l'effetto sul mercato è meglio avere una tecnologia sicura al 95% che produca un mercato di grandezza X oppure avere una tecnologia affidabile al 50% ma che produca un mercato grande 5 volte la X se fosse meno sicura porterebbe a una maggior condivisione non autorizzata ma è probabile che produrrebbe anche un mercato assai più ampio per la condivisione autorizzata la cosa più importante è garantire un compenso agli artisti senza danneggiare internet una volta assicurata tale requisito allora si potrebbero trovare modi appropriati per scovare gli avidi pirati ma siamo ben lontani da poter ridurre il problema a questo sotto insieme di utenti dediti alla condivisione di tipo A e finché non arriveremo a questo punto non è il caso di cercare modalità per distruggere internet nel frattempo dovremmo invece dedicarci a garantire un compenso agli artisti tutelando quello spazio per l'innovazione e la creatività che è internet 5 licenziamo gli avvocati io sono un avvocato per vivere faccio l'avvocato credo nella legge credo nella legislazione sul copyright anzi ho dedicato la mia vita a lavorare con la legge non perché a conti fatti si guadagni tanto ma perché ci sono ideali che vorrei che continuassero a vivere eppure per buona parte di questo libro ho criticato gli avvocati o il ruolo che hanno svolto in questo dibattito la legge parla di ideali ma il mio punto di vista è che la nostra professione sia troppo centrata sul cliente e in un modo dove i clienti ricchi hanno posizioni forti la mancanza di volontà da parte degli avvocati di mettere in dubbio o di controbattere tali opinioni danneggia la legge la prova di questa tendenza è inconfutabile vengo attaccato come radicale da molti nell'ambito professionale eppure le posizioni che sostengo sono esattamente quelle di alcune figure più moderate e significative nella storia di questa branca della legge molti per esempio ritennero folle la nostra sfida lanciata al copyright term extension act tuttavia trent'anni fa il maggior studioso nel campo del diritto l'autore Melvin Nimmer la riteneva ovvia però la mia critica al ruolo sostenuto dagli avvocati in questo dibattito non riguarda soltanto una certa tendenza della professione concerne piuttosto un aspetto ancora più importante il nostro fallimento nel calcolare in concreto i costi della legge si ritiene che gli economisti siano bravi a calcolare i costi e i benefici ma più spesso di quanto si creda essi non avendo alcuna idea su come funzioni realmente il sistema giuridico presumono semplicemente che le relative spese di transazione siano basse vedono un sistema che esiste da centinaia di anni ed hanno per scontato che funzioni nel modo insegnato loro dalle lezioni di educazione civica alle elementari ma il sistema legale non funziona o più precisamente funziona soltanto per coloro che possiedono grandi risorse non perché il sistema sia corrotto non credo che il sistema legale statunitense almeno a livello federale sia corrotto credo semplicemente che i costi di tale sistema siano così incredibilmente elevati che in pratica non si ottiene mai giustizia questi costi provocano una distorsione della cultura libera in svariati modi nei grandi studi legali il lavoro di un avvocato viene fatturato a oltre 400 dollari l'ora quanto tempo dovrebbe quindi impiegare a leggere con attenzione i casi oppure a fare ricerche su punti oscuri la risposta in realtà sempre più diffusa assai poco la legge si fonda su un'attenta articolazione e sullo sviluppo della dottrina ma questi elementi si basano su un accurato lavoro di preparazione tuttavia tale attività costa troppo eccetto nei casi più importanti e remunerativi i costi eccessivi la goffaggine e l'incertezza di questo sistema si fanno beffe della nostra tradizione gli avvocati come pure gli accademici dovrebbero considerare un dovere quello di cambiare il modo in cui opera la legge o meglio quello di modificare la legge in modo che funzioni è sbagliato il fatto che il sistema funzioni bene soltanto per l'un per cento dei clienti i più importanti va adesso radicalmente più efficace e quindi radicalmente più giusto ma finché non verrà realizzata una simile riforma la società dovrebbe tenere la legge lontana da quelle aree che come sappiamo finirà soltanto per danneggiare e ciò avverrà anche troppo spesso se buona parte della cultura verrà lasciata alla sua tutela pensiamo alle cose incredibili che nostro figlio potrà realizzare grazie alla tecnologia digitale film musica pagine web blog o consideriamo le cose incredibili che la nostra comunità potrà realizzare più facilmente tramite la tecnologia digitale pensiamo a tutto questo e poi immaginiamo la fredda melassa versata sui computer questo è ciò che produce ogni regime che obbliga a richiedere permessi di nuovo questa è la realtà della Russia di Brezhnev la legge dovrebbe regolamentare determinate aree della cultura ma dovrebbe farlo soltanto quando questa regolamentazione fosse un vantaggio eppure raramente gli avvocati mettono alla prova il loro potere o il potere che sostengono di fronte a questa semplice domanda farà del bene davanti al raggio d'espansione della legge essi rispondono perché no dovremmo invece chiedere perché dimostrami perché sia necessaria la tua regolamentazione della cultura fammi vedere in che modo possa fare del bene e finché non riesci a dimostrarmi a entrambe le cose tieni lontani gli avvocati grazie 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 grazie